allora ragazzi intanto apriremo noi il gruppo è una parola troppo e due sono poche intanto volevo ringraziare tutti i bikers venuti da tutta la sicilia siamo i 250 bikers in giro leggero intanto adatta a tutti per l'amicizia di stare tutti assieme e che l'energia sia con tutti i nuovi buongiorno abbiamo fatto intanto la linea ferrata che porta al lago di piana ok 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 Grazie a tutti. E guardate che meraviglia di posto, è un lago spettacolare. Questo è il lago di Piana degli Albanessi con una passerella che è una sorta di Luna Park per noi biker. Grazie a tutti. Ora siamo qua a Montepizzuta. Siamo saliti per Piana degli Albanessi, siamo andati a finire un luogo dove c'è stata la strage di Potella della Ginestra. E ora siamo pronti per riscendere. Grazie a tutti. Volevo ringraziare i ragazzi della Yetas Bike. Non l'ho diverticata mai. Grazie. Grazie a tutti.